Per Rosco, mi raccomando su un nuovo video Si Carte ragazzi, vieni, inquadra camera man Un gioco di prestigio Guarda, mi metti più giù, fammi vedere bene l'inquadratura Allora, ok ragazzi, guardate queste carte Adesso io vi insegnerò i colori Questo colore qua è nero Questo colore qua è giallo Questo colore qua è azzurro Ora, guardate con attenzione Sembrerà che io sto per mischiare la carta E voi verrete completamente illusi Ma è vero, è vero Mi dice che mi stanno mischiando le carte per davvero E qualcuno di voi dirà Non è vero, non è vero, non le stanno mischiando Stai becchendo vinta Adesso giro di qua Mischio, 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 mischio Ancora, mischio, 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 mischio Allora, andiamo a vedere ragazzi Qualcuno di voi potrebbe pensare Veramente che le nere sono andate da qualche parte Le gialle stanno da un'altra parte E le blu sono da un'altra parte Però attenzione Sono tutti a posto No, fai vedere, fai vedere, fai vedere Guarda Le gialle stanno tutte quante con le gialle Mentre le blu e le nere Ah, questa qui è blu ragazzi Non vi sbagliate tra quelle nere e quelle blu Le blu e le nere stanno messe così a cacchio Attenzione Ma basta un attimo che Abbiamo le blu che sono tutte quante in ordine Le nere che sono tutte quante in ordine E le gialle che sono tutte quante in ordine Volete che vi spiego il trucchetto? Sì Allora, se volete che vi spiego il trucchetto Mettete pollici in su adesso Se non volete che vi spiego il trucchetto Mettete pollici in giù Tre secondi per mettere pollici in su Uno, due, tre Bene, avete scelto che vi spiego il trucchetto E sta buono E sta buono E sta buono Qua Ve lo spiego pure come si fa con quattro colori Ci mettiamo pure il bianco, ok? Allora si fa così No, questo non è bianco Vabbè Chiamiamolo bianco, vieni Allora Inquadra bene, Dania Allora Noi prendiamo, innanzitutto Prendiamo le carte e le mischiamo per davvero Per davvero, no, per finta Quindi, quando facciamo così Veramente stiamo mischiando tutti quanti i colori Va bene? Ok, quindi abbiamo i colori tutti quanti mischiati Sì Non ci sono riusciti Aspetta, ci riprovo Va bene, sono tutte mischiate A questo punto Prendete la prima carta che è nera E la mettete qua Tra indice e pollice La seconda La mettete qua Ok? Quindi qui ci mettiamo le nere E qui ci mettiamo le blu Qui volendo potremmo mettere le gialle Quindi ogni volta che c'è una gialla Facciamo così Ogni volta che c'è una bianca La mettiamo così Ogni volta E potremmo creare un divisorio così Però risulta abbastanza complicato In sostanza le stiamo dividendo Facciamo la divisione più facile Semplicemente con due Quindi mettiamo qua le bianche E tutto il resto lo mettiamo sotto Tutto il resto Guardate Quindi qui Qui vediamo che c'è pollice E questo invece è messo per così Ok? Quindi Mentre vi faccio vedere le carte Ci vedi? Sono tutti mischiati In realtà io le sto Dividendo Ok? Lo sto dividendo le bianche sopra E questo sotto Quando ho fatto così Prendo con pollice indice Della mano sinistra questo Tolgo E sembra che alzo In realtà ho tolto tutte le bianche E le altre sono da mettere Allora facciamo così Pollice indice Facciamo vedere che le bianche Sono tutte messe insieme E le mettiamo qui sotto In modo che ci rimane la possibilità Di mettere questa sopra Quindi Primo gruppo lo mettiamo tra indice e medio Quelle che ci interesseranno qua sopra In questo caso dividiamo le nere Va bene? Quindi ogni volta che c'è una nera Noi la prendiamo e la facciamo capitare qua Vedete? Ta 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 E questa ta ta Però l'attenzione degli spettatori Tutte su queste La gente non fa caso Che queste sono messe in questo modo Quindi andiamo avanti Ta ta A questo punto Queste e queste Tengono le carte Vedi? Indice e pollice Le trattengono E facciamo l'alzata E abbiamo diviso Tutte le nere Qua Le gialle no Le metto sopra Ok? Le gialle le metto qua Dici guarda Le altre invece non sono mischiate Quindi ogni volta che mi capita un giallo Io lo metto qua sopra Vedete come sto dividendo? Questa sta prendendo così no? Quindi ta ta La gialla qua Ta ta E queste qua le proseguo tutte quante Finalmente così Va bene? Ta 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 Una alla volta così A questo punto faccio finta di alzare Ma in realtà Tolgo tutte le gialle Alzo E vediamo che abbiamo tutte le carte divise Per far abituare lo spettatore che facciamo lo stesso movimento Alla fine non le apriamo così a ventaglio Ma allo stesso modo Le facciamo vedere così a una una Tutte le gialle con le gialle Tutte le bianche con le bianche Tutte le blu con le blu E tutte quante le nere con le nere Ragazzi se volete che vi facciamo una serie di giochi di prestigio E vi insegniamo a fare giochi di prestigio Cosa devono fare? Le sacce lo devono Scrivere Lasciate il like Commentate Iscrivervi Campanellina E iscrivetevi nel commento Vogliamo altri giochi di prestigio Ciao mitici Ciao